Il Presidente della Regione, Francesco Roberti, a raggiungere il podio per il suo intervento. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Dopo 60 anni della sua autonomia, ancora oggi rivendica con forza e lungimiranza di chi nel 1963, concluse l'iter costituzionale, grazie a cui oggi possiamo orgogliosamente sentirci moli sani. Saluto e ringrazio per il lavoro portato avanti nelle ultime settimane il Ministro Raffaele Fitto e le strutture. Grazie a cui abbiamo programmato gli investimenti dei 445 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione del 2021-2027. Saluto e ringrazio per la presenza i prefetti di Campobassi Sernia, nelle persone di Michela Lattarulo e di Franca Tangredi. Il nostro è veramente un bellissimo rapporto di grande collaborazione. Ringrazio la delegazione parlamentare ed oro parlamentare molisana, con la quale c'è grande sintonia negli obiettivi da raggiungere. Saluto i sindaci dei miei comuni, dei comuni molisani, nonché i presidenti di provincia, con i quali sono in costante rapporto, di dialogo e di confronto per il nostro Molise. Sono stato sindaco e presidente della provincia, per cui conosco bene le difficoltà che si incontrano nell'amministrare le nostre comunità, soprattutto nei piccoli centri, nelle cosiddette aree interne. Per questo motivo mi preme sottolineare l'amore e la dedizione che dedichiamo ai nostri territori. Saluto e ringrazio tutte le autorità civili, militari e religiose presenti in questo splendido teatro, uno dei gioielli della nostra piccola regione. Sì, il Molise è una regione seppur piccola, ma con tanta voglia di fare e i cui dati mettono in luce una realtà vivace. Secondo un recente studio, infatti, sui dati relativi all'imponibile dell'IVA del 2023, quale indicatore dello stato di salute e dell'economia, la nostra regione è risultata la prima in assoluto con un più 14%. Sempre secondo le ultime ricerche relative al 2023, il Molise ha fatto registrare rispetto al precedente anno un incremento del 21,1% dell'export, collocandosi al secondo posto tra le regioni più dinamiche. Non vorrei che il Presidente, ora, guardando questi dati, può dire che non ci occorrono 445 milioni di euro. Non è così. Celebriamo oggi un momento importante per la nostra regione, perché firmiamo l'Accordo per lo sviluppo e la coesione, un programma di interventi su cui abbiamo lavorato con attenzione e solerzia, al fine di dare le risposte alle istanze degli attori protagonisti del nostro territorio, i comuni, le province, le aziende pubbliche e private, l'università. Le strutture del Ministero e della Regione Molise hanno preparato il piano di interventi con grande coesione e unità d'indenti rispetto agli obiettivi da raggiungere. L'Accordo prevede risorse importanti, investimenti che avranno la capacità di dare uno slancio decisivo alle politiche economiche, lavorative, sociali, imprenditoriali, turistiche e sportive. Per il Molise avere a disposizione 445 milioni di euro di investimento per i prossimi anni significa tanto, perché abbiamo avuto la grande occasione di programmare interventi strategici per raggiungere gli obiettivi che questo Governo regionale si era prefissato e sui quali stiamo lavorando sin da quando ci siamo insediati. Nell'Accordo c'è tanto in termini di crescita, digitalizzazione, tecnologia, competitività, energie, ambienti, risorse naturali, cultura, trasporti, riqualificazione urbana, ricerca, innovazione, sociale, salute, capacità amministrative e tant'altro. Dopo la firma dell'Accordo il Molise potrà guardare al futuro con maggiore ottimismo e rinnovata fiducia, anche se ammetto, come già si guardi al Molise, da più parti con maggior interesse. Abbiamo intrapreso un cammino tutti insieme e sin da subito, Presidente, come lei ben sa, ha preso a cuore le sorti di questa Regione attraverso una misura straordinaria, frutto di un lavoro concertato e condiviso che ci ha permesso di ripartire per dare nuove opportunità alle diverse aree della Regione. E di questo tutti noi la ringraziamo ancora una volta. Come Presidente mi sento onorato perché ho vissuto questi mesi della mia legislatura sotto il segno di grande collaborazione interistituzionale. L'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Molise, grazie agli investimenti strategici e il documento che darà al territorio un volano nei campi della ricerca e formazione, con i nostri poli d'eccellenza, come l'Università del Molise, della tecnologia, dell'industria, dei servizi, con benefici in termini di competitività per il turismo, per l'efficientamento energetico. Abbiamo programmato importanti interventi ed investimenti nei diversi settori, dall'ambiente, l'attenzione all'ambiente, alle risorse naturali, puntando sulla riqualificazione delle aree più esposte all'inquinamento e all'amodernamento delle infrastrutture. Non abbiamo dimenticato gli investimenti in favore della cultura per i nostri musei, ne cito qualcuno, il Parco archeologico di Attilia Sepino e la riqualificazione della Basilica del Santuario di Castelpetroso, tutte mete per il nostro turismo. E parlando di cultura e turismo, consentitemi di citare il nostro corregionale Francesco Iovine. Il Molise è per me un sogno, un mito tramandatomi dai padri è rimasto nel mio sangue e nella mia fantasia. Questo mito dobbiamo farlo accrescere e conoscerlo all'esterno. L'accordo inoltre prevede oltre 100 milioni di euro per i trasporti e la mobilità sul territorio, con importanti interventi per il miglioramento delle condizioni delle strade molisane. Considorevoli investimenti sono stati programmati sull'impiantistica sportiva per tutti i benefici legati alle politiche per favorire all'interno delle nostre comunità l'integrazione e la pratica sportiva sia agonistica che non. Non è mancata l'attenzione verso le fasci deboli della popolazione, stanziando 8 milioni per realizzare, modernizzare e riqualificare gli edifici del topo di noi, i centri diurni per i anziani e per le persone con disabilità. Rilevanti investimenti sono stati pianificati per aumentare gli standard qualitativi della capacità amministrativa della Regione Molise. Ci attende una grande sfida, permettere ai nostri giovani di formarsi e studiare in Molise, trovando lo sbocco lavorativo nella propria terra. La collaborazione con le Università degli Studi del Molise rappresenta un fondamentale veicolo per questo ambizioso obiettivo che possiamo raggiungerlo soltanto in un clima di cooperazione reciproca. E colgo l'occasione per salutare il qui presente magnifico rettore, nonché amico, professor Luca Brunese, che fategli un applauso se lo merita per quello che sta facendo per la nostra Regione. C'è un grande rapporto di collaborazione ed intesa. I fondi per lo sviluppo e la coesione quindi sono indispensabili per far tornare attrattivo il Molise sotto tutti i punti di vista e devo ammettere come qualcosa già si sta muovendo. L'abbiamo visto in sanità, comparto in cui siamo tornati un territorio di interesse, con la grande partecipazione agli ultimi bandi di concorso sia per il personale medico, sanitario che amministrativo. Nonostante ciò abbiamo ancora tanto da fare e per questo motivo chiediamo al Governo di continuare a mantenere alta l'attenzione sul Molise, perché dobbiamo lavorare affinché si esca dal commissariamento della sanità. In vent'anni, infatti, il commissariamento non solo non ha prodotto quello che i molisani e il Molise si aspettava, ma ha anche negato il diritto alla salute. Albert Einstein affermava «Non possiamo pretendere che le cose cambino se continuiamo a fare le stesse cose. Follì è fare sempre la stessa cosa e aspettarsi risultati differenti». Quindi siamo chiamati tutti a proiettare il Molise nel 2030, un futuro immediato che dovrà vedere la nostra regione protagonista e al passo con i tempi, dove i nostri giovani dovranno essere i veri interpreti della vita economica, lavorativa e sociale. Abbiamo le idee chiare per raggiungere questo ambizioso obiettivo e l'accordo che stiamo per sottoscrivere rappresenta la nostra idea strutturata e organica, concretizzata negli investimenti previsti. Presidente Giorgia Meloni, Il Molise vuole dare le necessarie risposte ai cittadini, così come lei sta dando al nostro Paese, che anche a livello internazionale è tornata ad avere rispetto e credibilità. Con determinazione lavoriamo tutti insieme per il bene del Molise e della nostra nazione. Grazie per tutto quello che sta facendo. Grazie Presidente Roberti. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, raggiunge il podio e prende la parola. Buongiorno a tutti, grazie di essere qui, davvero grazie al Presidente Roberti, grazie a tutti i sindaci, ai parlamentari presenti, a tutte le autorità, al Presidente della provincia, grazie anche per questa splendida location che non avevo mai visto e sulla quale tornerò nel corso di questo intervento. Come diceva il Presidente Roberti, noi siamo qui oggi per la firma dell'accordo di coesione, ma non me ne vogliate se faccio un mezzo passo indietro sul lavoro che il Governo ha portato avanti per arrivare fin qui. Voglio partire da un altro ringraziamento, ringraziamento al Ministro Raffaele Fitto che di questa materia è responsabile perché a monte della firma di questo accordo c'è un lavoro molto complesso, molto prezioso che noi abbiamo avviato e che mi piace raccontare perché queste sono quelle materie che non trovano grande diritto di cittadinanza sui media, che chiaramente preferiscono sempre la polemica più quotidiana. Dunque, i fondi di sviluppo e coesione sono per antonomasia i fondi che servono a combattere il divario tra i territori. Significa chiaramente i grandi divari italiani, quello tra il nord e il sud, ma anche quello tra la costa triatica e la costa tirrenica, significa anche divari tra le stesse regioni, aree interne, città, tutti i divari che noi conosciamo. Sono risorse che vengono organizzate per cicli di programmazione pluriennale e sono estremamente preziose. Ora, che cosa accade? Quando noi siamo arrivati al governo abbiamo fatto un approfondimento su quello che era lo stato di attuazione della vecchia programmazione, del vecchio ciclo del fondo di sviluppo e coesione e ci siamo resi conto che soprattutto nei territori e in molti territori nei quali queste risorse erano necessarie, buona parte di quelle risorse alla fine non veniva spesa. Sulla vecchia programmazione 2014-2020, cioè quella già conclusa da qualche anno, su 126 miliardi di euro disponibili per combattere i divari tra i territori ne erano stati spesi 47. Ora voi capite che in una nazione come l'Italia, che di divari ne ha molti e di risorse ne ha poche, noi non possiamo permetterci che risorse fondamentali, miliardi e miliardi di euro che sono fondamentali per i sindaci, per combattere i problemi che hanno i loro cittadini, per le istituzioni della Repubblica, per i cittadini vengano disperse. E allora invece di andare avanti con questo modello ci siamo chiesti che cosa potessimo fare per correggere alcune storture che erano anche nel funzionamento di quei meccanismi, che sono anche nella burocrazia, che sono anche nelle difficoltà. Poi ovviamente c'è la capacità amministrativa che va rafforzata e che cambia da territorio a territorio. Abbiamo avviato un confronto con tutti i presidenti di regione e delle province autonome, sia sullo stato della vecchia programmazione, sia sulla definizione della nuova programmazione che è quella della quale noi parliamo oggi. All'esito di questo lavoro è uscito fuori un decreto che si chiama decreto sud con il quale noi abbiamo riorganizzato il fondo di sviluppo e coesione e abbiamo istituito questi accordi. Questi accordi prevedono delle innovazioni rispetto al passato. La prima di queste innovazioni è che noi finanziamo opere e interventi che sono proposti dalla regione ma sono anche condivisi dal governo nazionale. Perché? Non ovviamente perché vogliamo limitare l'autonomia dei singoli territori ma perché è molto importante che il lavoro che si fa su una regione si è messo in relazione con il lavoro che si fa nel resto del territorio nazionale. Perché noi non siamo delle monadi. Ogni territorio non fa storia a sé. Se tu non colleghi la strategia che quel territorio sta mettendo in campo con la strategia che sta mettendo in campo il territorio immediatamente vicino e non costruisci così una grande strategia nazionale buona parte di quegli interventi non danno il moltiplicatore che potevano dare. Dopodiché abbiamo anche previsto alcuni meccanismi per evitare che le risorse vadano disperse significa la possibilità di intervenire con i poteri sostitutivi quando c'è il rischio che non si riesca a portare a termine l'opera oppure il definanziamento significa se ci si rende conto che alcune di quelle risorse non riescono a essere portate a terra con l'opera che era stata prevista si cambia obiettivo perché i soldi devono arrivare a terra. E abbiamo previsto un'altra cosa che è molto preziosa per le regioni il Presidente Roberti lo sa e cioè che noi con gli accordi di coesione destiniamo alla regione anche la quota di cofinanziamento dei fondi europei perché questo è un problema invece per quello che riguarda delle volte la possibilità di spendere i fondi europei che non c'è la quota di finanziamento che le regioni non ce l'hanno a disposizione e in ogni caso se hanno a disposizione quelle risorse il fatto che lo Stato nazionale si carichi quelle risorse consente di liberare parti di bilancio regionale e di destinarlo a misure che sono necessarie per il territorio. Questo è il lavoro che noi abbiamo fatto e ripeto è un lavoro molto lungo che è costato tanto impegno e che abbiamo messo in relazione anche con le altre fonti di finanziamento che abbiamo perché un altro problema che esiste in Italia è che poi esistono ci sono diverse fonti di finanziamento fondo di sviluppo e coesione ci sono i fondi europei c'è il PNRR e queste fonti di finanziamento non si parlano tra di loro e magari si sovrappongono magari si finanziano diciamo opere che non si usano queste risorse per finanziare tutto quello che serve distribuendolo. Allora noi abbiamo fatto un lavoro molto simile sul PNRR non è un caso che quando io ho formato il governo ho voluto dare la competenza dei fondi europei dei fondi di coesione e dei fondi del PNRR allo stesso ministero perché si potesse mettere tutto all'interno della stessa strategia e anche sul PNRR abbiamo fatto un lavoro che vale la pena facendo una piccola digressione ricordare perché ricorderete insomma quante volte è stato diciamo lanciato l'allarme sul tema della capacità dell'Italia di attuare il PNRR particolarmente con il governo Meloni che avrebbe fatto disperdere secondo molti le risorse del PNRR perché non sarebbe stato in grado di spenderle e perché soprattutto se prendeva in considerazione l'ipotesi avesse preso in considerazione l'ipotesi di rinegoziare il PNRR avrebbe perso le risorse del PNRR le cose non sono andate così le cose sono andate che nel 2023 noi abbiamo completato gli obiettivi della terza rata e portato a casa la terza rata completato gli obiettivi della quarta rata e incassato la quarta rata completato gli obiettivi della quinta rata siamo la prima nazione d'Europa ad aver completato gli obiettivi della quinta rata e facendo tutto questo abbiamo anche rinegoziato il PNRR perché abbiamo rinegoziato il PNRR abbiamo rinegoziato il PNRR intanto perché c'erano degli interventi che in realtà non sarebbe stato possibile finanziare con il PNRR e quindi risorse che sarebbero andate anche qui disperse e poi perché tra quando il primo PNRR è stato scritto e oggi è mutato il contesto non c'era ad esempio il conflitto in Ucraina e quindi le priorità in alcuni casi sono cambiate con la revisione del PNRR noi abbiamo liberato 21 miliardi di euro di risorse e abbiamo destinato quei 21 miliardi di euro di risorse ad alcune priorità dal nostro punto di vista 12 miliardi e oltre vanno al tessuto produttivo di questa nazione alla messa in sicurezza del tessuto produttivo al sostegno alle imprese e ai loro lavoratori sapete perché? perché noi ci dobbiamo ricordare che la ricchezza non la crea lo Stato il lavoro non si crea per decreto la povertà non si abolisce per decreto il punto è che la ricchezza in Italia la fanno le aziende con i loro lavoratori e quello che devono fare le istituzioni è mettere quelle aziende e quei lavoratori nella condizione di lavorare al meglio e allora abbiamo destinato 12 miliardi di euro alle imprese abbiamo destinato risorse all'efficientamento energetico alle infrastrutture strategiche fondamentali sul piano dell'energia su questo tornerò più avanti abbiamo messo altri 750 milioni di euro sulla sanità è una sfida presidente Roberti anche quella di uscire dal commissariamento è una sfida quella di rafforzare la sanità però anche qui consentitemi diciamo di fare un po' di controinformazione rispetto a delle notizie che leggo francamente che non corrispondono a verità fondo sanitario fondo sanitario con la legge di bilancio 2024 arriva al suo massimo storico di sempre sono 136 miliardi di euro quando c'era il covid per capirci erano 122 miliardi di euro sono numeri non sono opinioni poi bisogna ovviamente lavorare perché quelle risorse vengano spese al meglio noi ci siamo concentrati sulla grande materia delle liste d'attesa che è quello che impatta di più sui cittadini per cui non è un caso che dei miliardi che avevamo a disposizione per il rinnovo del contratto del pubblico per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego 2 miliardi e mezzo vadano proprio al rinnovo del contratto del comparto sanitario e non è un caso che le risorse aggiuntive che abbiamo messo nel fondo della sanità le abbiamo destinate a progetti di abbattimento delle liste di attesa ma con la revisione del PNRR noi aggiungiamo a queste risorse altri 750 milioni di euro e fatemi dire un'altra cosa siccome leggo anche qui polemiche presunte sul fatto che noi avremmo tagliato le risorse per esempio per gli ospedali questo è falso le risorse destinate alla sanità sono aumentate con il PNRR e sono per le fonti di finanziamento che erano già previste rimaste inalterate quello che noi abbiamo fatto è stato mettere in sicurezza alcuni provvedimenti che rischiavano di perdere le risorse perché in particolare per la tempistica del PNRR che voi sapete essere molto rigida 2026 quando non si riesce a fare l'opera entro il 2026 le risorse tornano indietro e quindi in alcuni casi noi abbiamo preso provvedimenti che erano nel PNRR li abbiamo messi in altre fonti di finanziamento che non hanno quella tempistica così rigida per salvare l'opera e abbiamo diciamo spostato provvedimenti sulla base delle tempistiche che sono accettabili ma anche qui non c'è un euro che viene disperso e particolarmente sulla materia della sanità allora abbiamo fatto tutto questo lavoro e arriviamo così ho fatto una brevissima premessa ma arriviamo così all'accordo di coesione di oggi con la regione Molise con questo accordo di coesione che è il sedicesimo accordo di coesione che noi firmiamo ne abbiamo già firmati altri 13 con le regioni e 2 con le province autonome noi mettiamo a disposizione di questo territorio come ricordava il presidente Roberti circa 445 milioni di euro dei quali 37 erano già stati assegnati in anticipo nel 2021 e sono risorse imponenti per questo territorio che servono a finanziare 42 interventi ma quei 42 interventi sono concentrati su alcuni ambiti strategici partiamo dall'ambito che secondo me è in assoluto quello più importante per combattere davvero il divario del mezzogiorno che è il tema delle infrastrutture guardate l'ho detto e lo ripeto ci sono due modi per tentare di combattere diciamo il divario tra nord e sud c'è il reddito di cittadinanza e ci sono le infrastrutture di cittadinanza sono due modelli diversi indipendentemente da come la si pensi su entrambi vi dico quello che penso io il reddito di cittadinanza era la risposta di chi diceva guarda io non posso risolvere il tuo problema io non posso migliorare la condizione di sviluppo che ti consente di avere opportunità migliori quello che io posso farti è mantenerti così ma in una condizione che rimane di marginalità la risposta di chi dice infrastrutture di cittadinanza è guarda io credo che investendo su questo territorio le tue opportunità possono cambiare questo territorio non è spacciato il suo destino non è definito dipende da quanto può competere ad armi pari e dimostrare il suo valore questa è la risposta di chi investe sulle infrastrutture di cittadinanza ed è la risposta che stiamo cercando di dare noi sulla tema delle infrastrutture per questo territorio ci sono 100 milioni di euro che servono soprattutto a rafforzare e mettere in sicurezza il sistema viario molisano quindi le strade comunali le strade provinciali le strade statali di questi ci sono 40 milioni di euro per il completamento di un'opera che è molto importante per il Molise che è la Fondovalle Tappino Riccia Colletorto San Giovanni San Giuliano di Puglia chiedo scusa e il tema delle infrastrutture è quello che copre un quarto diciamo quasi un quarto delle risorse di questo accordo di coesione l'altra priorità della quale ci occupiamo lo dicevo prima è il sostegno al tessuto produttivo 80 milioni di euro tra aiuti per gli investimenti e misure di sostegno per l'accesso al credito di questi 15 sono destinati alle imprese del settore turistico il turismo qui è uno di quegli ambiti che non hanno ancora espresso tutte le potenzialità che ci sono e allora anche qui quando tu metti insieme da una parte un sistema infrastrutturale rafforzato dall'altra il sostegno al tessuto produttivo delle aziende che operano nel contesto costruisci condizioni che consentono di competere ad armi pari poi certo non risolviamo tutto con l'accordo di coesione io penso che un altro per esempio grande risultato che questo governo è riuscito a ottenere sia la ZES unica del mezzogiorno la zona economica speciale unica per il mezzogiorno che significa noi abbiamo avuto nel mezzogiorno delle zone economiche speciali dei territori diciamo di solito intorno ai porti non gli interporti che garantiscono per chi investe in quel territorio di avere autorizzazione unica quindi semplificazioni straordinarie e di avere crediti d'imposta quindi incentivi all'investimento noi abbiamo deciso di sostituire le piccole medie zone economiche speciali che c'erano nel mezzogiorno con un'unica zona economica speciale che coinvolge tutte le regioni del mezzogiorno significa che chiunque investa in una delle regioni del mezzogiorno ha le semplificazioni e i crediti d'imposta nessun governo era riuscito a trattare con la commissione europea una zona economica speciale così ampia come noi abbiamo fatto per il mezzogiorno d'Italia e questo consente favorendo chi investe nel mezzogiorno consente di colmare un'altra parte di questo divario e quindi consente come dicevo di arrivare all'obiettivo di consentire di permettere a questi territori di competere ad armi pari il terzo capitolo del fondo di sviluppo e coesione riguarda il nesso ambiente energia sul nesso ambiente energia noi destiniamo 60 milioni di euro con tre obiettivi prioritari rendere più efficiente il sistema irriguo della Piana del Venafro riqualificare alcuni edifici pubblici e costruire impianti di produzione di energia idroelettrica e qui c'è un'altra grande strategia che diciamo così si realizza anche qui in Molise anche attraverso questo fondo di sviluppo e coesione questo accordo nel dramma che noi stiamo affrontando in una situazione internazionale impossibile lo vediamo ogni giorno nel dramma del conflitto in Ucraina delle conseguenze che ha provocato nel dramma del problema dell'approvvigionamento energetico si nasconde un'occasione perché le crisi portano sempre con sé un'occasione intanto l'occasione di rimettersi in discussione di non dare tante cose per scontate e di dover fare di più e meglio per uscirne una delle grandi occasioni che sono nascoste in questa situazione molto complessa che noi affrontiamo a livello nazionale e internazionale è il tema della produzione energetica noi oggi abbiamo una situazione per la quale l'Europa ha un problema di approvvigionamento energetico particolarmente con la transizione verde si guarda alle energie alle forme di energia pulita il mezzogiorno d'Italia è un potenziale enorme produttore di energia pulita significa che noi da quella crisi che abbiamo avuto che ci ha portato a rivedere tutte le nostre fonti di approvvigionamento che ci ha portato a rivedere i nostri accordi e che ci porta al mix energetico cioè a diversificare la produzione di energia non solo per noi stessi ma per l'Europa intera nel sud Italia con i giusti investimenti sulle grandi infrastrutture strategiche sulla produzione di energia pulita noi possiamo costruire un futuro e un pezzo di strategia per questa nazione che va oltre l'oggi che significa qual è il ruolo che vuoi avere nella storia e nel futuro e in questo accordo di sviluppo e coesione c'è un pezzo di questa strategia è quello che vi dicevo prima sul mettere insieme una strategia che valga anche per la nazione nel suo complesso c'è poi tutto l'ambito della valorizzazione del patrimonio culturale molisano perché anche qui vale come per il turismo Molise è una terra che custodisce luoghi straordinari che però purtroppo molto spesso il grande pubblico non conosce come meriterebbero di essere conosciuti allora anche qui rendere più facile rendere più agevole poterli raggiungere ma anche riqualificare valorizzare quegli spazi può fare la differenza ci sono alcune di questi luoghi straordinari che noi valorizziamo che restauriamo con queste risorse e c'è anche un impegno per sostenere la rete dei musei comunali e oltre di tradizione lo diceva bene il presidente Roberti parliamo di innovazione e qui investiamo oltre 15 milioni di euro per finanziare in collaborazione con l'università del Molise che qui è un'altra eccellenza un altro polo di attrazione un'altra risposta importante da dare a tanti giovani che altrimenti magari pensano che altrove sia e debba essere il loro futuro anche io ringrazio il magnifico rettore mettiamo in campo con l'università del Molise due progetti di ricerca uno in campo biomedico sulle malattie cardiovascolari sulle malattie neurodegenerative e dei tumori e uno sull'intelligenza artificiale che è una delle altre grandi sfide che noi dobbiamo affrontare che stiamo affrontando l'intelligenza artificiale è una grande occasione che nasconde grandi rischi all'Italia sta a fare fondamentalmente due cose da una parte sviluppare l'intelligenza artificiale perché noi anche su questa tecnologia non possiamo rimanere indietro è il lavoro che facciamo oggi con l'università dall'altra a un altro livello che è nazionale ma che è globale il governo dell'intelligenza artificiale per evitare che se non governata abbia degli impatti che possono essere anche molto pesanti sul nostro futuro io penso sempre all'impatto nel mercato del lavoro noi siamo stati sempre abituati a un progresso che ottimizzava le competenze umane però veniva messo a disposizione delle competenze umane e la sostituzione di lavoro era prevalentemente una sostituzione fisica di lavoro fisico e quindi questo consentiva agli uomini e alle donne di elevare sempre di più invece il loro lavoro al concetto all'organizzazione con l'intelligenza artificiale l'intelletto che rischia di essere sostituito e l'impatto che questo può avere particolarmente sui lavori più profilati penso a tutti gli ordini professionali nella medicina come nella scuola nell'università fino ad arrivare ai giornalisti tutti i professionisti possono essere impattati dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale se noi non la governiamo questa è proprio una digressione ma è uno dei temi che l'Italia porta alla presidenza del G7 perché su queste materie la governance non può essere nazionale la governance deve essere di un livello più alto e quindi condivido con gli italiani le strategie che l'Italia sta portando avanti perché penso che anche questo sia giusto quindi da una parte sviluppare le tecnologie noi siamo la patria del genio dobbiamo sempre cercare di essere non dico al passo dei tempi ma avanti rispetto ai tempi dall'altra parte chiaramente il lavoro politico che serve a governare strumenti che sono neutrali e che possono diventare nocivi se non vengono governati comunque ci occupiamo di intelligenza artificiale ci occupiamo dicevo di progetti di ricerca in campo biomedico in queste risorse rientrano anche risorse importanti per il diritto allo studio e torniamo sul tema di garantire che i giovani molisani rimangano a studiare in Molise e garantire magari che giovani da altre regioni vengano e continuino a venire a studiare qui in Molise quindi c'è il potenziamento di tutti i servizi agli studenti menze, biblioteche aree attrezzate con un'attenzione particolare alla disabilità e in ultimo non dimentichiamo con questo accordo i più fragili ci sono nell'accordo 9 milioni di euro per realizzare difficili co-housing del dopo di noi per i centri diurni per la disabilità per le case famiglie quindi in sintesi sono quasi 450 milioni per infrastrutture lavoro sostegno alle aziende turismo beni culturali energia innovazione diritto allo studio anziani disabilità queste sono le priorità che noi abbiamo condiviso con il presidente Roberti con la regione ma ringrazio anche tutti gli uffici anche tutti gli assessori che hanno lavorato a questa iniziativa i sindaci che hanno portato le loro proposte e sono le priorità che noi abbiamo individuato per una regione che dal nostro punto di vista ha troppe potenzialità inespresse e che noi faremo tutto quello che possiamo fare per consentire di competere a armi pari e di poter dimostrare finalmente davvero il valore intrinseco che ha grazie davvero grazie presidente Meloni invitiamo il presidente della regione a raggiungere il presidente del consiglio per la sottoscrizione firma dell'accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo italiano e la regione molise sottoscrivono per il governo il presidente del consiglio dei ministri Giorgia Meloni per la regione il presidente della regione molise Francesco Roberti grazie a tutti Grazie. Non so se i sindaci hanno piacere, vogliono venire a fare una foto tutti insieme, siamo a disposizione. Grazie. Subito dopo la foto il teatro. Grazie. Grazie. Chiediamo ai sindaci di disporsi alle spalle del Presidente del Consiglio ad Arco. Grazie. Grazie. Grazie.